Questi sono i nemici che hanno legge a casa, non so che sono le spagnole. All'epoca di questa nave, la spagnole, la cosa che si è. Sono spiegata nel meno della marcia. Li panoramare, la se ne sono? Sono, ero? Se ne, se ne sono. Vi andiamo in un momento. È un caldo. È un caldo. È un caldo. Chi è l'apica di questa nave? Chi è un caldo. 三, il stesso caldo. Il caldo, il caldo. Si, è un caldo. Il caldo è l'impica di ciò che è l'amica. È un caldo che è l'impica diкра, diως. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.